Concent One nasce per concepire lo spazio con unità di forma e stile, una continuità estetica e cromatica che attraversa diversi ambienti e i loro molteplici utilizzi, interno, esterno, pareti e arredo. Un grespo cellanato resistente, eclettico, con 5 colori che riprendono i toni naturali, ink, ash, land, stone e milk. 5 diverse superfici, i fondi matt, levigato e bocciardato, sono abbinati alla texture, un decoro in rilievo che può essere sia matt che levigato. Questo è uno dei punti di forza di Concent One, infatti, grazie all'innovativa tecnologia di Gigacert, sarà possibile posare un decoro senza alcun problema anche nei pavimenti. L'ampia gamma dei formati, che partono dalla lastra 120x250, passando dall'iconico 120x120 di Gigacert, si declina in tutti i sottomultipli di quest'ultimo, fino ad arrivare al mosaico 0,7x0,7 cm. Un contrasto dimensionale che permette di progettare ambientazioni uniche, accostando piccoli formati e grandi lastre. Chiudono la composizione di Concent One i tre spessori, 6, 12 e 24 mm. Le molteplici superfici, presenti su tutti i colori, permettono di rendere Concent One una serie poliedrica dai migli utilizzi, in base alle esigenze degli spazi. Essendo prodotti, infatti, tutta massa, è trasformabile su richiesta grazie al servizio Gigacert Service, che permette per ogni progetto di avere un su misura unico nel suo genere.